Dopo l'argento, ecco l'oro con tanto di record del mondo. Lorenzo Zazeri è protagonista assoluto agli europei in Vasca Corta di Cazzani. Russia, il portacolori della Rari Nantes Florenzi, ha dato il suo enorme contributo alla 4x50 mista che ha preceduto Russia e Olanda, stabilendo appunto anche il nuovo primato mondiale in 1,30 e 14. Questi parziali, 22,62, nuovo record italiano per Lamberti nel dorso, 25,14 per Martin Enghi nella Rana, 22,17 per Orsi nella Farfalla, 20,21 poi per il fiorentino Zazeri nello stile libero. Hanno dovuto aspettare un po' gli azzurri prima di poter festeggiare perché la giuria ha valutato se c'erano delle irregolarità. Pulite le vasche degli italiani, non quelle di francesi e turchi che sono stati squalificati. Ovviamente sul podio è esplosa la gioia dei quattro moschettieri azzurri, anche se la festa di Zazeri non è potuta durare troppo a lungo. L'Olimpionico Toscano ha infatti la possibilità di arricchire ulteriormente il proprio medagliere. Ha conquistato anche il diritto di nuotare la finale dei 50 stile libero in programma giovedì pomeriggio. La grande annata del 27enne atleta fiorentino che già a Tokyo aveva vinto un argento in staffetta dunque continua nel migliore dei modi.